Non si placa la polemica attorno al nuovo istituto scolastico di Adro, inaugurato lo scorso sabato sotto l'insegna del sole delle Alpi. Un simbolo che va rimosso secondo gli insegnanti della scuola che esprimono il loro dissenso attraverso un documento che porta alla firma del dirigente scolastico, Gianluigi Cadei. Un simbolo che rappresenta il comune e la sua storia, secondo il sindaco Oscar Lancini. Io devo rinnegare la mia storia, la mia cultura, le mie tradizioni solo perché a qualche d'uno è venuta la fregola di dire, e no quello lì è il simbolo della Lega, mi dispiace tanto, ma primo è ignorante, non conosce la storia. Secondo, lo invito a venire in comune di Adro e a visitare i luoghi nel comune di Adro in cui questo simbolo è in bella vista dal 1600 almeno. E intanto in rete e sui social network si promuovono in iniziative contro il sindaco di Adro nella convinzione che la scuola, in quanto luogo di educazione, non vada strumentalizzata a fini politici. Qualcuno addirittura invita a scrivere al comune chiedendo un passo indietro all'amministrazione. Se dovessero arrivare io comunque prometto a tutti di rispondere anche perché io non mi sottrago alle mie responsabilità di sindaco o alle responsabilità delle scelte che abbiamo fatto e che oggi sono sotto gli occhi di tutti. Forte del sostegno della sua gente che garantisce, ha contribuito anche di tasca propria a realizzare una scuola all'avanguardia in tempi record, il sindaco Lancini parla del nuovo polo scolastico come di un modello da seguire, progettato e realizzato interamente da ditte bresciane. Aziende bresciane hanno partecipato al bando, hanno vinto il bando per la costruzione della scuola, i banchi li ha vinti un'azienda bresciana di Capriolo. Credo che sia veramente un obiettivo raggiunto, cioè quello di aver portato nella costruzione di questa scuola anche economia ad un mercato sofferente, qual è il mercato dell'edilizia piuttosto che dell'arredamento o quant'altro. Grazie. Grazie.